Perché rischiare? La CNA di Fano continua la sua campagna contro l'abusivismo, soprattutto verso il settore dell'abusivismo degli acconciatori e dei parrucchieri. È un settore dove l'abusivismo regna, quindi per tutelare le imprese di questo settore abbiamo iniziato questa campagna da diverso tempo e oggi la ricontinuiamo. Ma soprattutto ci siamo rivolti anche all'Asur, all'Asur provinciale, perché faccio un controllo preciso e mirato verso quelle attività che sono in questo momento, mi dispiace dirle, ma gestite da extracomunitari, i quali aprono e svolgono dei prezzi al di fuori della regolarità, ma soprattutto per capire come fanno a sostenere questi costi così bassi. Anche perché un'impresa in regola deve sostenere costi per la sicurezza, costi per i dipendenti, costi per la formazione, quindi un'importanza gestionale della propria impresa. Quindi chiediamo questo confronto perché soprattutto la CNA è contro il lavoro abusivo. Questa è una campagna molto importante, quindi noi siamo contro l'abusivismo e difendiamo le attività che sono in regola. In questo momento iniziamo questa campagna a favore e la tutela dei nostri acconciatori che lavorano nel settore benessere e sanità della città di Fano.